La Regione Emilia-Romagna è impegnata da tempo in questo importante progetto europeo LIFE CO2 PES&PEF insieme all'Università di Milano e all'Università di Pisa e alla Regione Frioli Venezia Giulia. A monte dei risultati di cui vi accenerò c'è una Regione che ha una grande capitale ambientale forestale in particolare, oltre il 25% della superficie territoriale complessiva, prevalentemente foreste da pennino. Di questa grande superficie, parliamo di circa 600.000 ettari, il 20% sono proprio di proprietà regionale concessi in uso a parchi o a unioni di comuni montane, quindi siamo direttamente coinvolti in questa avventura, in questo grande impegno che ci dice di una volontà e anche di una grande opportunità nella direzione della migliore gestione possibile del nostro patrimonio naturale forestale. Anche per questo siamo partner di questo importante progetto che ci ha permesso di tirare le prime fila lo scorso anno definendo una policy che vogliamo sviluppare e portare avanti anche nella prospettiva della definizione della strategia forestale regionale. Il progetto PES&PEF si colloca infatti nella dimensione europea, ma si colloca in un tempo in cui il lavoro legato alla buona gestione forestale trova un riferimento importante nella nuova strategia forestale nazionale che guardiamo con molta attenzione perché riteniamo che sia davvero una politica molto innovativa che apre nuove strade e nuove opportunità. Questi sono un po' gli elementi delle policy che hanno a che fare con la buona gestione forestale capace di aumentare fino al 30% la capacità dei nostri boschi di trattenere CO2, quindi un concorso significativo e positivo per il miglioramento della qualità dell'aria. E poi ancora sappiamo quanto sia importante la filiera del legno che vorremmo sviluppare tenendo il giusto equilibrio tra l'utilizzazione del legname, quindi del bosco per fini imprenditoriali e quindi anche per riconoscere il giusto valore in quei territori in cui siamo anche impegnati a contrastare lo spopolamento, insieme anche al tema della salvaguardia di importanti biodiversità e azioni che sono anche tese a contrastare per esempio il dissesto nelle parti più delicate e più fragili del nostro territorio. Questi sono tutti filoni di lavoro che noi abbiamo definito con questa delibera che abbiamo assunto come giunta regionale nell'ottobre del 2022 e che oggi ci consegna l'avvio del tavolo regionale proprio legato all'attivazione di quel percorso che confidiamo ci possa portare entro un anno grossomodo alla definizione della strategia forestale regionale. Di questo tavolo fanno parte in questo momento tutti i rappresentanti del mondo scientifico e della ricerca della nostra regione, le università ma anche il centro ricerca e produzione vegetale, CNR insieme ai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni del mondo agricolo e quindi insomma un mondo di interlocutori molto variegato di cui vogliamo prenderci cura perché la cura dei nostri boschi vuol dire migliore qualità ambientale ma vuol dire anche un ritorno in termini economici di quello che è il giusto valore di questo che è un vero e proprio servizio ecosistemico che va in qualche modo riconosciuto anche sotto il profilo finanziario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.